Giovedì 20 giugno si riunirà l'assemblea dei sindaci della comunità montana Bussento, Lambro e Mingardo per l'elezione del presidente della giunta esecutiva. Anche dopo le recenti elezioni che hanno cambiato in alcuni casi le amministrazioni e gli equilibri politici nei comuni che afferiscono all'ente montano, ci si avvia ad una sostanziale riconferma al vertice dell'attuale presidente Vincenzo Speranza e dell'intera giunta attuale con il ruolo di vicepresidente, nuovamente al sindaco di Torraca, Domenico Bianco, e con quello di assessore ancora al sindaco di Cuccaro Vetere Aldo Luongo. Questo è l'accordo che già hanno sottoscritto in 12 comuni quasi la totalità per cui questa volta Speranza si presenterà dinanzi all'assemblea non con un documento di minoranza come avvenne cinque anni fa ma con un atto firmato dalla maggioranza dei comuni e dunque con la conferma dell'incarico in pugno. Non è mancato il lavoro di mediazione con tutte le componenti politiche che animano il territorio e che una sorta di compromesso, preludio all'unanimità o quasi del voto sia stato raggiunto, pare emergere dal fatto che questa nuova consigliatura della comunità montana porterà con sé la nomina anche di due consiglieri delegati. A rivestire l'incarico saranno il sindaco di Celle di Bulgaria, Gino Marotta, e quello di Torre Orsaia, Pietro Vicino, coinvolgendo e recuperando così i rapporti anche con le correnti meno vicine alla passata consigliatura. Le deleghe verranno rese note nel corso dell'assemblea di giovedì. Abbiamo un documento che in partenza è sottoscritto da 12 comuni su 14 quindi testimonianza credo di un buon lavoro che abbiamo fatto in questi anni con risultati che sono oggettivi. Parlo dell'azzeramento delle mensilità arretrate, di una riqualificazione di tutti i servizi che abbiamo dato nei comuni, di un'importante mano che abbiamo dato soprattutto nel settore della viabilità. Abbiamo composto una squadra perché abbiamo due o tre obiettivi ambiziosi su nuove cose di cui vogliamo occuparci. Una delle prime azioni che credo faremo è una ricognizione di tutti i posti letto che abbiamo nei comuni della comunità montana affidandoci poi a qualche società che abbia la possibilità di mettere in rete questi posti letto e entrare in un portale che possa dare la possibilità concreta di un'offerta turistica reale e non marginalizzata o lasciata all'iniziativa di qualche singolo comune.